Allora, io starei lavorando, va bene? Sto lavorando. Insieme a chi? All'Amelia. E' tutta la mattina che questo paperottolo mi viene a beccare... Che c'è? Cosa vuoi? Perché non vai a beccare nicche? Perché gli animali siete tutti sempre dintorno a me, eh? Io lo so, io lo so. Vai, vai, vada a nicche, vai. Lì sta qui, va a beccare nicchino, che io c'ho da lavorare. Senza offesa, eh? Ma perché lei non si leva da coglioni? Bisogna rammentargli di nicchino. Ma non posso neanche stare... A parte il fatto che da quando tu ci sei te qui e i violini sono a meglio. Ciao paperottoli!